Tragedia in Val Venosta, muore una turista, la vittima è una cinquantenne precipitata in un burrone sotto gli occhi del marito. Benko torna alla carica, il gruppo guidato dall'immobiliarista austriaco ha presentato in pompa magna il nuovo progetto per la riqualificazione della zona della stazione, meno cubatura rispetto all'originale, strade tutte interrate. Tragedia sfiorata sull'autobrennero, stamani un tir ha perso il suo carico da 24 tonnellate di sbarri in acciaio, decollato sulla corsia opposta ha centrato un'auto il cui conducente è rimasto miracolosamente illeso. Museo del cinema in arrivo a Bolzano, la struttura aprirà i battenti in autunno in via Krafogel, in mostra oggetti rari e pezzi unici, regista dell'operazione Natalino Bernato. Telespettatori di Video 33 ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, apriamo questo telegiornale con la cronaca nera. Una turista tedesca di 50 anni, Susanne Hell di Schleusingen in Turinja, è morta alle 11 di stamani dopo essere precipitata per circa un centinaio di metri dalla via Franz Huber sopra Parcines in Val Venosta, sentiero che la donna stava percorrendo assieme al marito. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla terribile caduta costata la vita alla turista germanica, che è morta praticamente sul colpo. Sul posto per il recupero della Salma, l'elicottero Pelican del 118 e gli uomini del soccorso alpino di Merano. Ed è salvo invece per miracolo un alpinista precipitato in un crepaccio in Val Senales. L'uomo stava salendo verso punta finale quando è caduto per circa 30 metri. Ha lanciato l'allarme con il telefonino ed è stato recuperato il leso dall'elicottero del 118. Cambiamo argomento, torna alla carica il gruppo Signa sul fronte della riqualificazione dell'area compresa tra via Garibaldi, via Alto Adige, via Le Stazioni e via Peratoner a Bolzano. Oggi è stato presentato nel dettaglio il nuovo progetto. Il progetto presentato oggi a Palazzo Menzi in via della Mostra a Bolzano è quello depositato in comune l'8 agosto scorso, che rispetto all'originale prevede una ridotta quota di nuova cubatura e il mantenimento dei giardini della stazione ferroviaria, soddisfando così le richieste del comune. Confermato l'interramento di alcune strade con due distinte opzioni. Ritengo che il gruppo Signa ha fatto una grande innovazione nell'immobiliare a Bolzano, perché non propone solo di costruire 50 appartamenti o 1000 appartamenti, ma si occupa anche del problema di come arrivare agli appartamenti. Nel nostro caso specifico noi abbiamo un progetto di mobilità molto sofisticato, che prevede un tunnel praticamente dal parcheggio Bolzano 100 fino al parcheggio di Piazza Walter sotto via Alto Adige e in un progetto allargato, che è quello che noi preferiamo, anche un tunnel dove abbiamo un tunnel su Piazza Verdi, via Garibaldi, via Stazione e una parte di via Renoni. Nel corso della presentazione alla quale non ha partecipato l'immobiliarista austriaco René Benco sono stati anche elencati 11 motivi per i quali il progetto targato Signa deve essere preferito a quello del gruppo Oberauk. L'associazione Bolzano domani, con la sua presidentessa, ha ricordato gli effetti che potrebbe avere il progetto Benco sull'economia locale. Verranno creati dei posti di lavoro nella prima fase, già nei primi 3-4 anni di costruzione e poi anche dei posti di lavoro a lungo termine, soprattutto in questa fase di crisi lavorativa dove tanti perdono il lavoro e non vengono al momento creati nuovi posti di lavoro. Questa è una grandissima opportunità per tutti. Oggi René Benco a Bolzano, come detto, non è arrivato, fermato in Germania per mettere a punto i dettagli del risanamento della catena di negozi Carstat appena acquistata. A lui avremmo voluto chiedere quanti soldi si metterà in tasca nel caso in cui dovesse vincere la gara. Sono dati interni che io non posso dirvi, posso solo dire che con la nuova ipotesi guadagna molto molto di meno di quello che era originariamente previsto. Bilancio negativo per il turismo in Alto Adige tra maggio e luglio, mesi durante i quali è stato misurato un calo dell'1% negli arrivi e del 4,3% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Maggio ha fatto segnare un disastroso meno 21,1%, in controtendenza invece giugno che ha registrato un confortante più 12,1%, mentre a luglio è tornato il segno meno con un calo del 5,9%. Adesso è ufficiale. Alcune importanti associazioni denti e altoatesini dovranno restituire a Bruxelles soldi incassati attraverso il Fondo Sociale Europeo. Il tutto a fronte della mancanza parziale o totale dei requisiti richiesti. La lettera inviata dalla Commissione Europea è stata recapitata il 22 agosto scorso alla dottoressa Cinzia Fleim, responsabile dell'area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari. Una lettera in parte pubblicata oggi dal quotidiano in lingua tedesca Tagest Zeitung contiene il rapporto finale elaborato a Bruxelles sulla vicenda dell'utilizzo dei fondi sociali europei in Alto Adige e le notizie sono tutt'altro che buone perché nel rapporto si spiega esattamente per quale motivo alcuni enti e associazioni dovranno restituire quanto incassato. Motivi che spesso sono da ricercare nell'errata interpretazione dei criteri richiesti da Bruxelles, per esempio sull'età dei partecipanti ai vari progetti finanziati dalla Commissione Europea o sulla loro necessaria residenza in Alto Adige. Ciò che più conta è che in sostanza ora viene richiesta in modo perentorio la restituzione dei due terzi di quanto incassato. Veniamo al dettaglio. Il Bauernbund, l'Unione Contadini, dovrà restituire 186.000 euro, l'Iveco 150.000, l'Accademia Gustav Mahler 128.000 euro, 97.000 euro la Procura di Bolzano, 19.000 euro il CAFAOV, 15.000 l'Associazione Artigiani APA e 3.500 la Cooperativa Sociale Albatros. La provincia ha preannunciato di voler sanare la situazione mettendoci i soldi, operazione che però Bruxelles potrebbe non accettare. E non mancano sul caso le polemiche di carattere politico. Il consigliere provinciale di Burger Union Südtirol, Andreas Pöder, chiede in un documento l'immediata rimozione e sostituzione dei vertici dell'ufficio provinciale che ha la competenza sui fondi sociali europei. Ed ora passiamo alle notizie in breve. Cambio della guardia in vista al comando truppe alpine di stanza a Bolzano nel corso di una cerimonia che si terrà il 12 settembre al Teatro Cristallo, nel capoluogo. Il generale Alberto Primiceri cederà il comando delle truppe alpine retto da 2009 al generale di divisione Federico Bonato. Primo incontro di lavoro congiunto oggi per gli assessori alla cultura dell'Euregio Cristian Tomasini, Filippa Hammer e Florian Musner per la provincia di Bolzano, Beate Palfrader per il Land Austriaco del Tirolo e Tiziano Mellarini per la provincia di Trento. Nella sede del gruppo europeo di cooperazione territoriale all'Euraca Bolzano hanno siglato un accordo teso all'intensificazione della collaborazione in ambito culturale. L'Aiut Alpine Dolomites è una parte essenziale del sistema del soccorso, lo ha detto l'assessore provinciale alla protezione civile Arnold Schuller nel corso di una visita alla centrale operativa di Ortisei. Accanto ai due elicottili del Pelican, l'Aiut Alpine è il terzo servizio di elisoccorso nel sistema altoatesino. Gli interventi sono concentrati nei mesi estivi ed invernali, in particolare per incidenti nel tempo libero e durante l'attività sportiva. Giornata di referendum il 21 settembre prossimo in Alto Adige. In quella data si terrà come noto a Bressanone la consultazione popolare sul collegamento funiviario tra la stazione Ferroviaria e la zona di Sant'Andrea. Anche gli abitanti di Rio Pusteria saranno però chiamati lo stesso giorno alle urne per dire la loro sul progetto di rifacimento o risanamento dell'impianto di risalita che collega Rio Pusteria alla zona di Maranza. E saranno proprio gli abitanti della frazione di Maranza ad essere chiamati al voto. Cambiamo argomento. Giorni di relax a casa prima della partenza per le vacanze al mare. Per Tania Cagnotto, reduce da un europeo che le ha regalato due ori e un argento. È tempo di preparare le valigie per Tania Cagnotto. La campionessa bolzanina che agli europei di Berlino è riuscita nella sua ennesima impresa, quella di conquistare due ori e un argento nelle tre gare disputate. Missione che alla vigilia pareva lei stessa impossibile, avendo effettuato una preparazione soft, volutamente soft, dice, a causa di una stanchezza di fondo forse ancora da superare. Sì, anche perché comunque il quadriennio di Londra, perché comunque per un'Olimpiadista si lavora anche quattro anni, è stato comunque lungo e ho fatto davvero tanto, quindi ci voleva proprio staccare un po' sia di testa che fisicamente. Racconta di essere in procinto di partire per una bella vacanza in barca, tra Sardegna e Corsica, per rilassarsi e ritrovare i giusti stimoli. Per due mesi niente tuffi, perché dopo oltre vent'anni, passati a saltare dai trampolini di mezzo mondo, il divertimento è diventato una parte limitata del gioco. Non è più come quando avevo 15 anni che mi divertivo come se fosse un gioco, ormai non è più un gioco, è più un lavoro, però è comunque una passione che ho, è un lavoro che mi piace fare, mi piace ancora girare, mi piace la competizione e tutto, se no non sarei ancora qua. Una cosa è certa, da ottobre inizia la lunga volata verso le Olimpiadi di Rio de Janeiro, dopo le quali dunque dal 2016 Tania lascerà l'agonismo per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. E dopo vedremo, mi piacerebbe allenare, comunque sono nella guardia di finanza, quindi se si riesce a trovare un progetto buono con loro, sarei contenta. Ha messo su casa da qualche tempo con il fidanzato Stefano Parolin, volto noto del calcio a 5 altoatesino e stimato professionista, e la parola famiglia comincia ad essere un progetto interessante. Sì, sì, certo, anche quello fa parte dei miei progetti. Obiettivo Rio 2016 dunque, raggiunto il quale Tania abbandonerà le gare e si romperà anche l'eterno sodalizio tecnico con il Papa Giorgio. Io penso che ce la godremo tutti e due a vederci per altri motivi, perché comunque il tempo che passiamo insieme in piscina non è come passarlo insieme a un pranzo o a casa normale, cioè sono due cose completamente diverse. Dal 2016 in poi nuova vita, come detto, magari una famiglia, magari dei figli, mai dire mai, ma probabilmente non saranno dei tuffatori. No, assolutamente no, anche perché sennò mia mamma mi uccide, perché non ne può più, poverina, tra la carriera di mio papà, quella mia, adesso anche il nipote non ce la fa fare. E torniamo alla cronaca, poteva avere conseguenze tragiche l'incidente verificatosi alle 7 sull'autostrada del Brennero nei pressi di Chiusa per causa imprecisata. Un tir che viaggiava in direzione sud ha sbandato finendo contro il guardrail, perdendo il suo carico composto da 24 tonnellate di barra in acciaio che sono letteralmente volate sulla corsia opposta di marcia, centrando un'auto che si è poi capottata. Il conducente della vettura se l'è cavata con qualche botta. Sull'arteria sono poi iniziate le operazioni di rimozione del materiale, operazioni complesse, posto che ciascuna sbarra della lunghezza di 5 metri pesa 600 chilogrammi. In entrambe le direzioni si sono formate lunghe code. Incidente sul lavoro stamani verso le 10 nei boschi sovrastanti il passo del Brennero a rimanerne vittime a un operaio macedone di 30 anni. Assieme ad alcuni colleghi stava tagliando degli alberi ad alto fusto, non lontano da Malga, Zirago. Una delle piante abbattute lo ha parzialmente travolto, procurandogli la frattura di un femore. Soccorso sul posto, l'uomo è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Bressanone. Cambiamo argomento, serata all'insegna delle eccellenze enologiche, che è quella di ieri a Dobbiaco con la festa dei viticoltori. Anche il meteo ieri ha dato una mano alla riuscita della manifestazione organizzata a Dobbiaco dalla locale associazione turistica. Di scena i viticoltori con una serie di cantine che hanno proposto in degustazione i loro prodotti migliori in tutto in una splendida cornice, quella offerta dal paesaggio dell'alta pusteria e dalla piccola cittadina, meta in questo periodo di molti turisti. Noi veniamo spesso qui a Dobbiaco perché ci piace tantissimo, d'estate, d'inverno, quando possiamo, d'estate a passare le vacanze, d'inverno qualche weekend. Numerose cantine alto-tesine si sono presentate a chi già le conosceva e a chi in vacanza ha avuto così invece modo di avvicinarsi per la prima volta al mondo vitivinicolo made in Sud Tirol. Dalla bassa tesina, dall'ultradige, ma anche da Bolzano, sono arrivate a Dobbiaco alcune delle etichette più prestigiose per un evento che ha dato modo di ravvivare Dobbiaco anche a sole ormai tramontato. Ci sono diversi vantaggi con questi eventi di carattere materiale, economico, ma anche immateriale. I nostri negozianti si organizzano, assieme costruiscono questa offerta molto articolata, molto ricca. Questa sera, ad esempio, è accompagnata con un assaggio di vini, tutti i vini locali che possono essere apprezzati e vengono apprezzati sia dai turisti che ovviamente dai nostri concittadini. Ed è una catena, è un puzzle, è un tassello di un puzzle di grandi eventi, di molti eventi che offriamo al turista, sia di carattere culturale, che musicale, che sportivo, che appunto culinario gastronomico. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 della Scala Richter è stata avvertita alle 13.30 nella zona di Cengles, nel comune di Lase, in Alta Val Venosta. Non si registrano feriti né danni. La scossa odierna è stata rilevata da qualche abitante di Cengles che ha allertato il 118. Il grado 2.7 rientra per poco nella seconda fascia di magnitudo della Scala Richter, che va da 2 a 2.9, e comprende le scosse che sono avvertite solo minimamente. Incidente stradale poco dopo mezzogiorno lungo la provinciale che collega Meltina e Verano. Un 51enne norvegese in sella alla sua moto per causa in via d'accertamento. In prossimità di una curva è venuto a collisione con una macchina. Il Centauro è stato ricoverato con lesioni medio-gravi all'ospedale di Merano. E con questo è tutto per quanto riguarda la prima parte, ma rimanete con noi perché subito dopo torneremo con il magazine dedicato alla cultura e con lo sport. Se hai problemi di capelli, soffri di diradamenti, noi possiamo aiutarti. Salone Heart Studio Maier a Brunico. Condensazione capigliatura, estensione capelli, un vasto assortimento di parrucche, prodotti per pazienti in chemioterapia e parrucche con capelli naturali o sintetici. Consulta un nostro specialista in modo gratuito e senza impegno e vedrai che abbiamo una soluzione anche per il tuo problema. Oltre 30 anni di esperienza. Salone Heart Studio Maier a Brunico. Individuale, competente, discreto. Promuovi anche tu la collaborazione tra il turismo e l'agricoltura e partecipa con la tua idea, manifestazione o il tuo progetto al concorso Euregio il turismo incontra l'agricoltura. Trovi tutte le informazioni su www.tla-euregio.info Termine di adesione venerdì 5 settembre 2014. Vuoi organizzare il tuo evento perfetto? Affidati a degli esperti Show Vision Event Technology L'Ostirodler a Lienz Tutti ne vanno pazzi Con 2700 metri l'Alpine Coaster più lungo delle Alpi Orientali Il più spettacolare d'Europa Aperto tutto l'anno, indipendentemente dal tempo Facilmente raggiungibile in gondola Divertimento allo stato puro per grandi e piccini Ideale per una gita con tutta la famiglia L'Ostirodler A due passi dalla bellissima città di Lienz www.ostirodler.at Brick System Tutte le stufe che volete Dal 31 agosto l'offerta informativa di Video33 si arricchisce con un'edizione domenicale della Rassegna Stampa Alle 6.40 e in replica durante la mattinata Verrà proposta la consueta panoramica sulla stampa locale in lingua italiana e tedesca e su quella nazionale Oltre alle previsioni meteo aggiornate Video33 Press in edizione domenicale vi aspetta dal 31 agosto www.ostirodler.at 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 www.ostirodler.at